Sento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito Ha sentito l'emozione della gente? Noi eravamo dietro, abbiamo visto la partecipazione, l'attenzione Io la sento, a volte non la vedo, sono molto concentrato e vado in un viaggio molto personale però ovviamente lo sento il calore del pubblico e l'emozione, anche quei momenti molto silenziosi dove il pubblico è molto attento e mi ascolta, l'anno scorso che era la prima stagione mi metteva paura quel silenzio, non capivo se forse era un silenzio dato da qualcos'altro e invece poi ho scoperto che era proprio il piacere di ascoltare questa storia e ieri sera si è ripetuto per la prima volta, alla prima di Caserta si è ripetuto questo ascolto, queste emozioni, qualche risata perché ci sono momenti anche divertenti, surreali, un po' grotteschi che fanno parte della mia infanzia, della mia vita No, ho sentito un pubblico molto, molto partecipe, rispettoso e partecipe Sicuramente è uno spettacolo anche di grande partecipazione fisica sua Dice? Sì, sì, sono due ore di... è uno spettacolo atletico sono due ore di tante cose a parte l'impegno che io do alla voce perché si canta, si racconta, si narra racconto di personaggi che hanno voci particolari insomma, graffiate, le canzoni è uno spettacolo impegnativo, sono un'ora, ieri un'ora e cinquanta oscilla a volte, dipende da molti fattori ma diciamo circa due ore di spettacolo accompagnato da due musicisti strevitosi come Daniele Bonaviri e Fabrizio Palma che mi accompagnano con due chitarre ma sembra un'orchestra meravigliosa, infinita sembra che accada chissà di tutto in realtà siamo in tre e poi ci sono delle scene molto belle disegnate benissimo, con le luci è una regia di Giampiero Solari molto visionaria queste mani aperte ogni tanto, spesso insomma, richiamano molto Modugno sì, ovviamente è uno spettacolo che rievoca molto il personaggio è un tributo anche a questo grande artista che mi ha dato l'opportunità di, e il regalo mi ha regalato la possibilità, l'opportunità di ricordarlo di celebrarlo, di interpretarlo, di conoscerlo meglio di avvicinarlo in qualche modo mi sento molto vicino a Modugno in questo senso sono riuscito, credo, di esserci riuscito ad entrare nella sua sfera anche un po' artistica perché quando è stato fatto il film per la tv su Modugno io ho dovuto, per dovere di mestiere documentarmi, studiare, capire entrare in quel mondo là questa volta invece a teatro porto un altro punto di vista non faccio Modugno e per chi poi vedrà questa intervista saprà che io a teatro non faccio Modugno lo racconto attraverso mio padre l'ho sovrapposto mio padre a Modugno Modugno a mio padre facendone quasi un personaggio unico che sono io poi, il bambino è un gioco di specchi, di esperienze e di vita vissuta, passata, forse anche futura che mi ha divertito tantissimo era un sogno che avevo nel cassetto da tanto forse da quando ero ragazzino quando non sapevo di voler fare questo mestiere ma avevo molto chiaro una cosa che io avrei voluto raccontare delle storie questo era molto chiaro dentro di me spesso mi fanno la domanda lei voleva fare l'attore non lo so se voleva fare l'attore però era molto chiaro che volevo raccontare storie volevo parlare a delle... potevo diventare, non so e ci riesce benissimo potevo diventare un politico sarebbe stato bravo potevo diventare, non so i politici raccontano storie in fondo raccontano storie anche loro purtroppo raccontano storie l'ultima domanda, così la lascio andare visto che andeva andare in scena che differenza c'è recitare per il cinema e invece per il teatro dove il pubblico è vivo ce l'hai davanti? non so, io non sono proprio un esperto di... come dire della recitazione in tv al cinema io seguo la storia poi non mi interessa la destinazione io mi concentro sulla storia poi dove verrà posizionata poco importa se la mettiamo su un palcoscenico teatrale o televisivo o cinematografico l'importante è che la storia sia scritta bene e che mi calzi il pennello e che io possa essere degno di raccontare quei personaggi o quella storia e che io possa essere diciamo la persona più adatta per raccontare quella storia e quel personaggio poi la destinazione mi importa meno ma comunque queste tre destinazioni hanno ovviamente delle cose diverse hanno dei fattori in comune ma altre cose sono molto distanti il teatro è una cosa parola parte dalle altre due forme espressive cinema e televisione ma per un semplice fatto semplice semplice per modo di dire di avere il pubblico lì presente e avere subito un risultato immediato nel bene nel male ce l'hai subito il risultato e questo è qualcosa che solo il teatro può dare il teatro è un rito è un rito che si consuma in quel momento solo per chi vive quell'attimo là la televisione e il cinema è un altro un altro discorso che amo altrettanto profondamente comunque grazie grazie grazie